Trailer di Fighters Gustiamoceli Peggy 12 Cavolo ho già paura col Peggy 12 Ho visto solo degli screenshot Oh Quella era la mia faccia Era così, ho visto solo gli screenshot Non ho visto ancora la roba, ok? Dragon Ball Fighters Andiamo Giranno Ah c'è Frieza Oh Oh Ok La fine del cosa, il Dramatic Finish? Probabilmente di Goku? Porca Eva Ma figo È bello iniziare così il third season pass Tra parentesi, no? Ok, vabbè, questi sono i PG Cos'è? Va bene? Goku GT broken Vabbè Ultra Instinct Oh Occhiettino Oh Eccolo qua Joins the Fight Ma i counter Ma qua Fai schifo Goku Ok, questa è l'entrata Sì, è l'entrata È l'entrata Se figo Solo No No, no, no Vabbè, lo guardiamo tutto Lo guardiamo tutto Che fa? Ciao Ciao Che fa? Eccola Potara Fusion Vai Eccola Trollina Ovviamente Kefla Joins the Fight Ok, come normale Ok, questa è la special da uno Uh, il down buono Figo Ok Quella era un'altra Ma questa è un'altra special da uno No Sì, sì È da uno È da uno Ok Questa è la tre Questa è la tre Uh, figata Ah, fai raggi Uh Ok Kefla Coming Febbraio 28 Ok Eh Ah Ah È quando escono dal torneo È quando escono dal torneo Figata È quando escono dal torneo sta roba Fighissimo Fighissimo Ah, ok È finito Allora Voglio Voglio guardare un attimino Una piccola cosa di Goku Dov'è? Ok È Livi questo? Ok Cavolo Sembra a metà schermo Aspetta Aspettate Fatemelo mettere un attimo Fatemelo mettere a 0.5 Un secondino Ok Livi Counter Cioè fai counter proprio Direttamente Ah però non fa la mossa dopo Quindi puoi andare in combo Vai in combo con questa roba Cioè fai il counter e vai in combo Figo Ok Questa è come Questa sembra una mossa tipo alla hit Ok Oh rimbalza dallo schermo Rimbalza dallo schermo Uh buono Puoi continuare le comboli Vabbè E qua c'è l'entrata Ok Finito qua Goku Ok quindi Con questa mossa qua Rimbalza dallo schermo Se si può rientrare in combo Figo Pum E rimbalza giù dallo schermo Poi Mi sa che puoi andare subito In combo di nuovo Figo 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 Questo è figo Questo è figo Solo gli altri due Sembrano dei counter Però che cambia la posizione Ti arriva dietro Questa è Livi Ok vabbè Amen Ecco Ti arriva dietro Ti si sposta dietro E lo puoi E lo counter Inizia a fartela combo Ok Bastardello Stessa cosa con questo Puff E sono dietro E inizio la combo Questa invece è Mossa normale E vabbè Rimbalza Kefla cosa abbiamo fatto vedere Fatemi vedere di Kefla Questa roba Non mi piace molto Questa mossa Vabbè Bisogna vedere quando Entra in game Questa è figa Vabbè È la 3 Ok A posto Abbiamo visto Sembra bello forte Bello bastardo Bisogna vedere esattamente Quanto è veloce Quanto è veloce Bisogna vedere Quanto è veloce Goku ultra istinto E' veloce